Vita a metà, vita autentica, vita inautentica, ontologico, ontico. Sono tutte parole che derivano dagli studi filosofici di un grande filosofo occidentale, direi contemporaneo perché è morto nel 1976, trattasi di Heidegger. Ebbene, questo tedesco, inviso fino a qualche anno fa, quando ero ragazzino io, era piuttosto censurato e adesso è stato riabilitato, diciamo, e se ne parla. Heidegger è molto interessante, diciamo che io ne farò una sintesi stretta, in questo breve video dedicato al gatto filosofico, parlando appunto di questi termini che sono anche ontologia, ontologia e ontico, che sono sempre termini usati da Heidegger, che parla appunto di questa opportunità di analizzare l'ontologia. Che cos'è l'ontologia? L'ontologia è l'essere, è la domanda, la domanda che l'uomo si fa e che è praticamente quella relativa all'essere, all'esistere, quindi all'ente, che sarebbe poi il participio presente di essere, e l'uomo si fa la domanda e lui la distingue, distingue questa facoltà che caratterizza noi umani rispetto agli animali, che è la domanda, non se la pongono. Anche qui è tutto da vedere perché nessuno è stato di noi animale, e quindi non può ben conoscere se la cavalla storna di Pascoli non avesse una sua ontologia. Ma io resto sempre un po' stupito del fatto che vi siano delle regole in ciò che non si conosce, per esempio, anche perché poi ci sono i paradossi linguistici. Io sono sempre stato stupito del fatto che si dica animale alla bestia che secondo appunto questi pensatori non avrebbe l'anima. La bestia non ha l'anima e questo è certo. Ma allora mi volete spiegare perché l'unico soggetto del mondo naturale, Deus, Sive, Natura, ha la declinazione del sostantivo anima in animale, se questi non ha l'anima. È una cosa che mi ha sempre lasciato molto confuso. Sembra quasi che abbiano creato apposta questa confusione per creare appunto un caos di tipo cognitivo in noi umani. Perché va bene, l'Adam è stato investito della psiche, dell'anima. Allora perché non chiami animale l'Adam, cioè l'uomo, e invece non ti limiti a chiamare bestia, oppure disanimato, non lo so, l'animale. Perché altrimenti il paradosso prevederebbe che l'acqua che non ha il fuoco la si chiami focata o infuocata, l'acqua. Ma se l'acqua non ha il fuoco? Va bene, comunque al di là di questo ragionare che mi ha sempre fatto porre la domanda fin da quando ero franciullo, perché si chiama animale ciò che non dovrebbe possedere l'anima, proseguiamo con il pensiero di Heidegger, che riguarda appunto l'ontologia. Cioè ci si chiede noi, umani, il perché dell'esserci, il perché di appartenere ad un ente, per coloro che credono nella creazione, per esempio, nel fatto che l'universo sia stato creato da chi? Da un essere, quindi da un ente. E poi si passa al ragionamento invece di tipo ontico, ontico, ecco adesso l'ho detto bene, di tipo ontico. E che cos'è il pensiero ontico? In buona approssimazione, proprio diciamo di tipo bignaminico, ecco potremmo dire che l'ontico è l'ontologia personalizzata, soggettiva. Cioè ciascuno di noi si pone in questo caso la domanda perché io sono, chi sono, quale ente io sono e qual è in fondo il senso del mio esserci. Quindi l'atteggiamento ontico è un atteggiamento che guarda alla propria personale esistenza, cercando di trovarne un senso, una motivazione anche, che si allaccia poi direttamente all'altro concetto di Heidegger che è appunto la vita, no? La vita che sarebbe per l'appunto una vita autentica o inautentica. Che cosa si intende? Beh, si intende che la vita inautentica è una vita un po' subita. Sarebbe quella della personalità che cerca sicurezze, quindi cerca il posto di lavoro fisso, sicuro, non ama ma si sposa con quello lì perché ha delle sostanze economiche, non vuole avere fastidi, quindi in una situazione di rivoluzione e di lotta parla e dice ma non presenzia alle manifestazioni di piazza e qui adesso in questo periodo vediamo tutti questi elementi, li vediamo tutti. Montificano, ecco, anche nelle chat private, ma non li vedi nelle manifestazioni di piazza. Ecco, questi sono coloro che vivono una vita inautentica. insomma, quelli che balzarono al naso a Dante e li collocò subito in una posizione di danno, ecco come dannati, e furono appunto coloro che vissero senza infamia e senza lode, gli ignavi che gli collocò poi in una posizione ancora non infernale, in una posizione limbica, ma certo, credo che Dante non li potete sopportare perché non prendevano posizione. Quindi vivere una vita tranquilla e serena acquistandosi già in età giovanile il prossimo loculo, pensando già alla pensione quando si ha 30-35 anni ed evitando, insomma, tutte le situazioni di rischio. Invece chi è che vive una vita autentica? Colui che vive una vita autentica, colei che vive una vita autentica, sono coloro che accettano il personale, il talento, lo sviluppano e lo mettono in atto. Costi, quel che costi. La loro opinione politica? Costi, quel che costi. Il loro senso di libertà da un qualunque padrone lo mettono in atto. Costi, quel che costi. E quindi, magari, ecco, la posizione degli artisti o degli artistoidi che vivono una vita, magari, di stenti economici, pur avendo potuto fare dei mestierini di tipo silenzioso e in semischiavitù di fronte a un padrone che può essere anche istituzionale e invece, appunto, loro scelgono io prendo, ad esempio, in modo specifico, gli artisti che scelgono una vita difficile, certamente difficile, ma, viva Dio, libera e autentica, per l'appunto. Ecco, qualche esempio, beh, non so, mi viene in mente Modigliani che visse la sua vita da pittore con dei colli lunghi, ma fu povero, soprattutto alla fine della sua vita e pagava le sue minestre, i suoi consomè nella Parigi di quel tempo con un disegno, un quadro che oggi certamente non vale un consomè ma vale l'intero palazzo del ristorante e così Van Gogh che finì la sua vita senza un orecchio in una posizione manicomiale ma anche Tesla, il grande genio, morì di stenti e il più grande fosse tra i letterati della storia degli ultimi tempi Fiodrov Dostoievski che, appunto, morì come un barbone durante una notte una notte fredda al gelo senza casa perché poi lui era fuggito dalla famiglia insopportabile lui non è che non avesse i beni aveva lui i beni ma proprio per questo la famiglia lo perseguitava i figli le carogne che trovi anche in casa e quindi se ne andò ma se ne morì perché era più di 80 era un'ultraottantenne e morì al freddo appunto durante il sonno quindi vite difficili vite che però hanno accettato l'esposizione hanno accettato il proprio talento che venisse alla luce e che costituisse tutta la loro esistenza o parte di quella ecco la vita autentica la vita autentica è difficile è di difficile scelta però dice il mistico che è indispensabile perché? perché quando si è in punto di morte dice o si dice che ti passa tutta la vita davanti e e lì dice il grande mistico vedrai l'inferno o il paradiso secondo che tu abbia voluto vivere una vita autentica o inautentica se hai vissuto una vita inautentica ti faranno vedere quale era il tuo talento magari tu eri una grande etuale una grande subrette non hai accettato di esserlo ebbene sapendolo in punto di morte non potendolo più fare avrai un tale rimpianto che quello sarà il tuo inferno tu che non hai voluto figli per paura di averli quello sarà il tuo inferno tu che hai accettato un amore e ti sei sposata con quello lì perché aveva il denaro aveva il palazzo ebbene in punto di morte saprai che avresti avuto un grande amore ma sarebbe stato un amore povero ma sarebbe stato quello il tuo paradiso invece questo il rimpianto è il tuo inferno e il paradiso chi lo vedrà colui che ha dedicato la vita tutta la vita ai poveri che ha vissuto nella povertà perché si voleva fare l'arte voleva essere un pittore colui che ha vissuto tutta la propria vita accettando anche una vita difficile ma accettando con coraggio la fuoriuscita del proprio talento che rende la vita autentica e concluderei con una frase del grande polacco caro Josef Wojtyla che pochi sanno che fu anche filosofo e poeta e lui disse diceva intercalava con questa espressione scopri il tuo talento quando lo avrai scoperto la tua vita cambierà migliorerà ecco prendi allora la tua vita e dalla agli altri ecco quindi mi dedico questo mio breve video dedicato a Heidegger di oggi a un poeta che ho conosciuto a Pordenone lo ritengo oltre che è un poeta un filosofo molto ironico che ha accettato ha accettato infatti la sua vita autentica e lui ha più di 80 anni più o meno e li compirà in questi giorni e mi ha raccontato la sua vicenda nella sua vita ecco molto autentica appunto a un certo punto hanno offerto a lui che si chiama Bruno Bruno Casomai che non è il suo cognome ma lui se l'è auto assegnato proprio perché per collocare una posizione filosofica incerta a se stesso Bruno Casomai un giorno il comune gli offre un lavoro e questo lavoro è un bel lavorino che gli consentirebbe di vivere serenamente per il resto della sua vita e questo glielo danno sui 40 40-50 anni ecco è una bella occasione che chiunque avrebbe accettato ma non lui allora gli si avvicina un sindacalista e dice ma cosa stai facendo Bruno hai un'occasione straordinaria non perderla perché ti comporti così e lui disse guarda non voglio essere schiavo di nessuno voglio vivere la mia vita in libertà e nella mia arte nella mia poesia e allora il sindacalista disse ma allora tu sei un pazzo e Bruno si aprì un largo sorriso come se avesse scoperto di se stesso una quota che non prudenzialmente non voleva considerare e disse sì ecco sono pazzo e felice non accettò quel lavoro e disse felice contento per il resto nella sua vita nella sua arte e nella anche nella sua indigenza pensate che adesso questo uomo molto interessante che a me piace aver conosciuto e che ci rincontreremo certamente perché voglio intervistarlo bene ebbene lui vi anticipo che viene aiutato da una comunità di grande animo che c'è lì nel portenonese di veri fratelli di vere sorelle che ho conosciuto e che mi ha tanto impressionato positivamente ebbene devo dire tanto che mi sono innamorato subito delle delle componenti di questo gruppo come un bambino in pasticceria ecco cosa volevo dire ah sì pensate che lo aiutano gli danno dei soldini perché lui possa in qualche modo comprarsi qualcosa da mangiare sapete cosa fa lui? ve lo dico praticamente lui si compra 10 kg di farina e con questi 10 kg di farina con un metodo straordinario che solo lui conosce che mi ha spiegato ma adesso non me lo ricordo compone un'aiuola speciale dove dopo un po' compare la scritta bianca pace quindi viva la vita autentica e viva i poeti che davvero danno quell'unica ricchezza che ci resta in questo mondo che altrimenti sarebbe solo tristemente sicuro di una sicurezza che ci porta soltanto a rimpiangere la vera vita la vita autentica viva Heidegger viva Bruno a rimpiangere a rimpiangere a rimpiangere